Una storia che nasce nel 1764 quando il Monte Catre veniva esplorato in tutta la sua bellezza e varietà di piante. Proprio tra 7 e 800 si parlava di un medicamento prodotto proprio a Cantiano dalla famiglia Chilli, un balsamo con poteri curativi a base di piante come l'iperico, in grado di curare bronchiti e asme. Ed ecco che dalla tradizione rinasce una nuova ricetta dell'opo balsamo, che rispetta l'originale e vede i ragazzi dell'Istituto Benelli collaborare nella produzione di questo nuovo prodotto, il cui ricavato andrà in aiuto della popolazione alluvionata che presenta ancora profonde ferite aperte. Diciamo che abbiamo messo insieme scuola, territorio e aziende, perché è la formula ottima, perché così i nostri ragazzi possono imparare dal territorio e capire anche come funziona la realtà lavorativa. e loro hanno svolto questo progetto grazie a Cosmes Italia, Ecofatto e RSM e proprio diciamo si sono messi in gioco loro, accompagnati da noi docenti. I docenti sono stati grandiosi perché si sono messi in gioco andare al di là della mera lezione teorica e accompagnare i ragazzi nell'azienda, fare la formulazione, riuscire poi a pensare, ideare un packaging insieme all'azienda è stato molto molto importante e bello anche. Sì, ci fa molto piacere essere qui stamattina. È testimonianza anche che un evento catastrofico come quello che ci ha colpito può avere anche risvolti positivi, intanto in termini proprio pratici, perché poi questa cosa si è concretizzata in un prodotto che viene commercializzato, il cui proventi insomma finiranno anche nelle nostre casse per aiutarci, insomma rimetterci in piedi. E poi è stata anche un'occasione di riscoperta di una storia che anche dagli stessi cantianesi era stata quasi dimenticata, perché è una storia finita più di un secolo fa, quella del balsamo di Cantiano, una storia di saperi, di artigianato, di cura dell'altro, perché non dimentichiamoci che il balsamo aveva un utilizzo medico, farmacologico, all'epoca insomma le conoscenze mediche erano queste, e di ricchezza del territorio, perché proprio alla base del farmaco c'era proprio la conoscenza delle nostre erbe, dei nostri fiori, delle nostre ricchezze naturali, l'iperico, che era poi la base, il cuore di questa medicina, di questo farmaco, che ancora oggi è molto utilizzato come rimedio naturale. La scuola è questo, cioè non è un qualcosa che è fuori dal mondo. Entra nel mondo, noi già eravamo stati per esempio a Senigallia ad aiutare con i nostri ragazzi a spalare il fango in settembre, per problemi logistici facevamo fatica a arrivare a Cantiano, però questa iniziativa qui ci ha aiutato perché dice bene, a Senigallia abbiamo fatto una cosa, qui ne facciamo un altro, quindi anche la poliedricità anche della scuola e dei ragazzi.